Benvenuti e benvenuti a questo culto evangelico su Radio Bequit. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Leggiamo nel Salmo 42 come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Ci raccogliamo in preghiera. Signore, quando siamo senza forza, quando ci sentiamo abbattuti, Tu ci permetti di guardare a te e soprattutto a Gesù, che ha dato la sua vita perché la nostra esistenza fosse liberata e ricondotta a te. Che il tuo Spirito operi in noi, così che possiamo cercarti e trovarti, sperare in te e sostenerci gli uni gli altri con la forza che da te riceviamo. Nel nome del Salvatore nostro Gesù Cristo. Amen. Nel nome del Salvatore. 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 Come Tu ci guardi, ci liberi e ci rinnovi con la Tua misericordia, fa che sappiamo incontrare il nostro prossimo per sostenerlo, rispettarlo e incoraggiarlo. Nel nome di Gesù. Amen. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ricorda l'Epistola ai Colossesi, e Dio ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio e in Lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Questo annuncio è per noi, fratelli e sorelle, per noi che invochiamo la misericordia di Dio, ci viene annunciato che in Cristo siamo perdonati e possiamo a nostra volta perdonare. Amen. Leggo dal Libro della Genesi al capitolo 50 i versetti da 15 a 21. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero Chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Perciò mandarono a dire a Giuseppe, tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine. Dite così a Giuseppe, perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato. Perché ti hanno fatto del male? Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. I suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero Ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro, non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò al mantenimento per voi e i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. E poi nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 12, i versetti da 17 a 21. Non rendere a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli esseri umani. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli umani. Non fate le vostre vendette, miei cari. Non cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto a me la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Nel capitolo 50 della Genesi, che abbiamo letto, si racconta delle conseguenze della morte dell'ultimo dei grandi patriarchi dell'antichità, Giacobbe. Con la sua morte non soltanto volge al termine una epoca, che in realtà è stata una vera epopea, non solo della storia di Israele, ma in fondo anche della storia di tutte e tre le religioni cosiddette del libro, e cioè ebreismo, cristianesimo e islam, che riconoscono i patriarchi antichi, Abramo, Isacco e Giacobbe, come i primi grandi credenti nel Dio unico. Con la sua morte dunque termina questa epopea, ma diventa anche indispensabile fare i conti con un gravissimo episodio accaduto anni prima nella sua famiglia. Un episodio così grave da essere considerato il grande segreto di questa famiglia di Giacobbe, dei suoi figli. Che cos'era successo? Era successo che Giacobbe amava in modo particolare uno dei suoi dodici figli, undici maschi e una femmina. Amava Giuseppe, il primo genito della sua amatissima moglie Rachele, la seconda moglie. E ci ricorda Genesi che lo amava più di tutti gli altri suoi fratelli. Era in questo davvero molto umano. Il risultato però è che i suoi fratelli odiavano Giuseppe. Ci racconta Genesi, non potevano parlargli amichevolmente. La situazione diventa sempre più tesa e diventa talmente insopportabile per i fratelli che arrivano al punto da progettare l'eliminazione di questo incomodo. Il piano viene messo in atto. Il giovane Giuseppe viene fatto prigioniero, viene venduto come schiavo a dei mercanti del deserto e soprattutto viene dato per morto al padre Giacobbe. Gli porteranno le vesti di Giuseppe intrise di sangue per far credere che una bestia feroce lo avesse divorato mentre faceva la guardia al bestiame, al pascolo. Sappiamo invece che Giuseppe sopravviverà. Sopravviverà in Egitto, nell'Egitto dei faraoni, anzi farà una carriera strepitosa a corte e quando una carestia in Canaan spingerà i suoi fratelli a cercare sostentamento in Egitto Giacobbe invece resterà a Canaan ancora per un po' di tempo i fratelli troveranno proprio Giuseppe a dover decidere della loro sorte e Giuseppe dopo qualche titubanza e desiderio di vendetta si farà prima riconoscere, poi li accoglierà e infine arriverà anche a perdonare i fratelli ci viene raccontato nel capitolo 45 di Genesi. Tra i fratelli però non ci sarà mai un vero e proprio chiarimento sul passato. Nel padre Giacobbe, che intanto li raggiungerà in Egitto verrà messo al corrente della verità. Così quando Giacobbe muore i fratelli di Giuseppe temono che l'equilibrio di tutta la loro vicenda si rompa definitivamente. Temono cioè che Giuseppe in realtà non li abbia perdonati veramente ma abbia solo atteso che morisse il vecchio e amato padre per compiere la sua vendetta. La loro coscienza è così sporca da non credere al perdono di Giuseppe. Per questo, e siamo al testo che abbiamo letto poco fa, i fratelli mandano un messaggio a Giuseppe con un ordine che sarebbe stato dato dal loro padre prima della sua morte. Giuseppe perdona ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato perché ti hanno fatto del male. Si tratta probabilmente di un ordine falso che Giacobbe non si sarebbe mai immaginato di dare appunto perché non era a conoscenza di questo segreto terribile, oscuro nella esistenza dei suoi figli. Che cosa fa Giuseppe? Piange. Piange di fronte a questo messaggio. Perché piange? Perché il messaggio è la dimostrazione che i suoi fratelli non hanno creduto al suo perdono. Quello che aveva espresso in modo chiaro in precedenza. Ma alla fine i fratelli prendono il coraggio a piene mani e si presentano davanti a Giuseppe. E così Giuseppe li può affrontare in un dialogo molto franco. Prima di tutto ripete loro due volte una esclamazione rassicurante non temete, non temete. Poi la sua prima motivazione riguardo il perdono, quello che ha già dato, sono forse io al posto di Dio? Giuseppe rimanda ai suoi fratelli all'agire di Dio con la stessa spiegazione che aveva già dato prima al capitolo 45. Dice testualmente non vi rattristate né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui. poiché, attenzione, Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui ma Dio. questa volta diversamente dal capitolo 45 Giuseppe parla espressamente della colpa della responsabilità dei fratelli. Sì, voi avete pensato del male contro di me e l'avete messo in pratica. Ma ciò contrappone Dio. Dio ha pensato di farlo servire al bene. Il pensiero di Dio ha fatto in modo che il male progettato e messo in pratica dai fratelli servisse al bene. Così il male attraverso un lungo e penoso cammino può venire perdonato. Per questo Giuseppe perdona. Se non lo facesse contraddirebbe il pensiero la volontà di Dio mettendosi così al suo posto. Infatti dice sono forse io al posto di Dio? Questa è la storia. La storia che ci vuole è dimostrare che se sappiamo guardare agli eventi della nostra vita con lungimiranza spirituale ciò che è negativo può essere trasformato in qualcosa di positivo. Dio infatti può convertire un male in un bene. Magari dopo un lungo cammino e doloroso cammino come è successo a Giuseppe e i suoi fratelli. un cammino che ci coinvolge profondamente. Apostolo Paolo come abbiamo anche letto nel brano del capitolo 12 della Lettera ai Romani riprenderà questo insegnamento nell'ambito delle sue esortazioni. Non rendete a nessuno male per male. Impegniatevi a fare il bene non lasciarti vincere dal male ma vinci il male con il bene. Cari amiche e cari amici cari sorelle e cari fratelli tutto ciò è possibile. Com'è possibile vivere l'esperienza del perdonare e dell'essere perdonati e quindi del voltare pagina in modo definitivo e così in qualche modo rinascere. È possibile. È possibile non solo nelle storie della Bibbia e quelle storie antiche che possiamo rileggere molte volte ma è possibile anche oggi nelle nostre storie personali e familiari. È possibile. Questa è la buona notizia che la scrittura ci dona oggi. È possibile perdonare essere perdonati ricominciare su una strada nuova. Amen. Noi neve non si leve noi vedremo i suoi nemici di le cuore abbandonare il campo e quei che lo dian tutti insieme del suoco sperto al volgorà fuggenti senza scappo noi noi viveremo a lontruggi come si vede scompani il fum una ventata calgerà presso un gran calor e l'impimpista del signor la forza è consumata mentre in presenza del signor il giustino dato al suo dol la forza e la saggezza e volum dietro il santo ardor ma risuonare con solo cuore la loro contentenza e venire signor del cielo o campione un corpo voce il prontito governo e lì sull'arte dubbista o gran potenza e maestà e nome sull'eterno vogliate genti a Dio cantar a Lui che sulle lupi in ciel a par dominatore la sua gran voce tatu onar ascolti ogni anima fede figlio del Signore per il suo popolo pero la demancia a Lui crevò quando vino guidato con un tremendo folgoral Ad il preghiere il preghiere con anche un pensiero di intercessione verso il nostro prossimo preghiamo. Signore, la tua parola è principalmente una parola di riconciliazione, di perdono, di accoglienza. Noi vogliamo viverla, vogliamo vivere la tua riconciliazione come creature nuove, capaci di annunciare la tua grazia. Le immagini di sofferenza che quotidianamente vengono da tutto il mondo sono davanti ai nostri occhi. Pensiamo alle angosce di quanti, per qualsiasi causa, soffrono, alle ansie di quanti aspettano giustizia, alle lacrime di quanti non possono, non riescono a vedere oltre il loro dolore. A tutti coloro per il quali il cielo è buio. Intercediamo presso di te per tutti, affinché la tua luce li illumini e la tua forza li sostenga. Nel nome del tuo figlio Gesù che ci ha insegnato a dirti, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma libereci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Riceviamo ora la benedizione del Signore che è tratta dalla seconda epistola dell'Apostolo Paolo, i Tessalonicesi. Il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Amen. Grazie a tutti.